...comandazioni e promozioni. Allora, al lavoro! Chi non scatta niente scatti! Ve lo dice uno che viene dalla gavetta e che si è fatto un masso così! Aveva fatto piazzare nell'atrio la statua di sua madre Teresa, a cui era molto affezionato, e pretendeva che tutti, entrando e uscendo, le rendessero servile omaggio. Serve qualcosa? No! Buon appetito, signorina Silvana! Buongiorno, grazie! Siedo qua vicino a lei! Certo, sei comodi! Grazie! È occupato? Sì, è occupato! Allora mi siedo qua! Anche questo! E pure questo! Tutte e due? Tutte e due occupati! Un po' di vino? Grazie, acqua e vino! Acqua e vino? Ma l'acqua la felice, signorina Silvana! Venga, venga! Pantazzi, l'ho tenuto il posto! Dunque gli dico B12, se lui mi rispone acqua, allora dico B12! Ma... ... Ma l'acqua...